Bella bella ragazzuoli, incarico, usa cabina del telefono come Clark Kent che ci serve per sbloccare questo stile aggiuntivo di Clark Kent o di super, ma ragazzuoli, questa è la prima posizione dove possiamo trovare la cabina, i posti sono svariati ragazzuoli ci sono 5 posti dove andare per trovare la cabina, qui ci troviamo esattamente a vivaglio verdeggiante ragazzuoli questa è la posizione esatta per trovare la cabina, non è la classica cabina telefonica dove si accettano gli incarichi ma sono delle cabine apposite che sono state messe per sbloccare lo stile aggiuntivo di super, ma ragazzuoli non è il fatto che entrare, interagire e vi sbloccherà lo stile, adesso andiamo a vedere le altre posizioni ragazzi perché non è l'unica, magari vi serve anche in altri posti, seconda posizione di un'altra cabina in mappa che possiamo trovare ragazzuoli la possiamo trovare esattamente brughiere e brumosi in questo punto esatto della mappa pingato, giumato ragazzi quindi qui troveremo un'altra cabina in cui poterci trasformare per sbloccare lo stile di superman andiamo a vedere una terza posizione in terza posizione ragazzi dove possiamo trovare un'altra cabina in mappa per lo stile aggiuntivo di Clark Kent ovvero quello di supermano ragazzi è qui a Corso Commercio ragazzi nella zona proprio nella zona commerciale quindi alla zona di esti Corso Commercio esattamente in questa posizione ragazzuoli possiamo trovare come vedete una terza cabina quindi abbiamo una vasta scelta su cui poter andare a fare la missione ragazzuoli andiamo a vedere la quarta posizione una quarta cabina ragazzuoli la troviamo praticamente ad esti Poder e Pannocchia ragazzi sotto il benzinaio praticamente in questa posizione ragazzuoli qui dove c'è il benzinaio ad esti Poder e Pannocchia ragazzi e la vediamo proprio sotto sotto il benzinaio ragazzi passiamo alla quinta e ultima posizione ragazzuoli quinta e ultima cabina ragazzi ci troviamo è esattamente a scogliere scoscienza ragazzi questa è la posizione esatta della cabina dove poter interagire per trasformarsi e con questo abbiamo finito ragazzuoli come sempre spero che il video vi sia stato utile se vi piaciuto un bel pollicione di schicciare per le persone contenuti bella bella ciao ciao